Salve e buonasera, oggi andremo a vedere da vicino questa palla luminosa, andiamo ad aprire. All'interno troviamo la palla, il cavetto di alimentazione USB. Tasselli per il fissaggio alla parete, infatti qui troviamo i due fori. Il telecomando con le varie funzioni e il libretto delle istruzioni che ci mostra tutte le varie funzioni del telecomando. Andiamo a vederlo da vicino. Tassi di accensione, spegnimento, auto, flash, stop del movimento, velocità di movimento, perfetto, meno e più, modalità musica, tre tipologie, la scelta dei colori rosso, verde o blu, on e off per la modalità musica, abbiamo anche la possibilità di muoverci tra le tracce audio e di regolarne il volume. Andiamo ad accenderla, ho qui un power bank. Bluetooth mode. La palla è bluetooth per collegarsi ad uno smartphone o ad un altro dispositivo per riprodurre la musica. di lato troviamo una piccola cassa da cui uscirà l'audio. Iniziamo a provare un po' il telecomando. have una piccola. . . . . . Grazie. Spegniamo le luci e vediamo la buio. Eccoci qui, abbiamo spento un po' di luci. Andiamo ad accendere la nostra palla luminosa. Mettiamo la velocità di movimento. Diminuiamo, fermiamo il movimento. Modalità flash. Ora andiamo a collegarlo in bluetooth e vediamo come si comporta il tempo di musica. Nei dispositivi appare come ZTV-CT10EA. Associamolo. Connesso. Ho preso dei file audio direttamente dall'ibreria di YouTube. Mandiamo in play. Grazie. 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 Questo suono è l'avviso che ci dice che ha raggiunto il volume massimo. Vediamola anche così. Grazie a tutti. Non mi resta che augurarvi buona serata e alla prossima. Grazie a tutti.